Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi sono qui per parlarvi della mia serie tv preferita e lo è diventata nel giro di pochissimo tempo, circa un anno, e sono passato dall'odio all'amore più folle perché? Perché io avevo un rifiuto nei confronti di Downton Abbey era una serie che non volevo neanche sentir nominare, non la volevo proprio guardare semplicemente perché sapevo che andava in onda su Rete 4, e ragazzi per me Rete 4 uguale i miei nonni non si scappa, Rete 4 uguale Walker Texas Ranger, quindi io non volevo proprio sentirne parlare e l'anno scorso invece mio fratello me l'ha consigliata su Netflix e in un momento di disperazione, non sapendo proprio cosa guardare, l'ho cominciata Ragazzi, a partire dalla prima puntata è stato amore, è stato amore folle io l'ho divorata, ho guardato tutte le stagioni nel giro di un mese ho praticamente fatto binge watching, non mi era mai capitato ma l'ho adorata mi è piaciuta tantissimo, è naturalmente ambientata in Inghilterra e racconta le vicissidutini di una famiglia nobiliare, la famiglia del conte di Glantam Ragazzi, detto così può sembrare una cosa noiosa ma ragazzi e ragazze, non lo è assolutamente è una serie che vi prenderà e vi appassionerà dal primo momento perché non solo vengono raccontate le storie della famiglia ma anche e soprattutto quelle della servitù quindi abbiamo una parte della storia che si svolge ai piani superiori ai piani alti della dimora di questo bellissimo castello, questa dimora il castello di High Clare che è possibile anche visitare si trova a poco più di un'ora da Londra io volevo andarci tantissimo ma purtroppo a causa dell'uscita imminente del film che arriverà il 23 ottobre in Italia era tutto bloccato, non era possibile accedere per visitarlo quindi sarà per un'altra volta mi sarebbe davvero piaciuto tantissimo perché appunto non sono location ricreate ma quelle viste nella serie sono tutti posti veri è un piccolo villaggio è questa bellissima tenuta che si trovano appunto a poco più di un'ora da Londra ragazzi, super super consigliata il cast è fantastico di altissimo livello una su tutte è presente Maggie Smith la nostra professoressa McGranit che devo dire il personaggio della McGranit differisce di pochissimo da quello della contessa madre che va ad interpretare in Downton Abbey perché ha lo stesso umorismo è davvero così sagace è spiritosa è puntigliosa va a fare quelle battute molto molto acide è davvero ragazzi il personaggio secondo me migliore dell'intera serie anche se tutti i personaggi mi piacciono non ce n'è uno che non mi abbia fatto innamorare a partire dalla signora Padmore la cuoca fino ad arrivare proprio al conte di Grandam quindi sono assolutamente convinto che qualora foste in dubbio voi ragazzi dovete assolutamente dare una possibilità a Downton Abbey bene detto questo mi sono dilungato tantissimo ragazzi io era appunto per dimostrarvi quanto mi piace questa serie ho ricevuto da Universal Picture Home Entertainment questo bellissimo cofanetto che contiene tutte le stagioni di Downton Abbey tutte quante io sono assolutamente felice di averlo ricevuto che sia stata fatta questa nuova edizione in questo cofanetto davvero molto molto elegante molto bello in copertina sul fronte naturalmente abbiamo High Clay Castle quindi Downton nella serie che viene riflessa così come nella sigla anche quella ragazzi la sigla non l'ho mai saltata una volta ha una musica bellissima è davvero molto molto bella io ve la straconsiglio fatemi sapere sotto nei commenti se l'avete vista se volevate vederla se eravate in dubbio qualsiasi domanda ragazzi sotto nei commenti e addirittura oltre a tutti e 51 gli episodi della serie inclusi gli speciali di Natale quindi sono 6 stagioni che vanno a comporre questa serie è presente anche questo bollino che vi permetterà di partecipare ad un concorso che potrebbe permettervi di partecipare ad un viaggio per due persone in un castello nel castello di Semivicoli in Abruzzo per vivere un'esperienza totalmente in stile da Unto Nebbi ragazzi io ucciderei per poter vincere un concorso del genere quindi parteciperò sicuramente ma adesso andiamo ad aprire questa confezione che è bellissima e non vorrei proprio rovinarla ecco qui vediamo come si presenta all'interno wow è diversa da come me l'aspettavo pensavo ci fossero delle amarei classiche dentro la scatola e invece no ecco che abbiamo questi due cartonati uno con scritto prima parte e un altro seconda parte e a questo punto sono curiosissimo wow davvero molto molto bella tutti i DVD sono serigrafati con la famiglia Grandam ragazzi davvero molto molto belli qui abbiamo anche il castello qui abbiamo parte della servitù sono davvero molto molto belli mi piace mi ha stupito tantissimo questa edizione pensavo ci fosse un'unica amarei come quella ad esempio di House of Cards invece è molto molto curata questa qui molto elegante mi piace davvero tantissimo sono molto belle le immagini stampate sui DVD quindi assolutamente straconsigliata ragazzi per tutti gli appassionati di Downton questa qui assolutamente un'edizione da non perdere quindi ringrazio tantissimo di Universal Picture Home Entertainment per avermi inviato questa copia e naturalmente ragazzi partecipate al concorso per vincere il viaggio in Abruzzo a tema Downton Abbey ma non è finita qui perché Downton Abbey ha ancora molto da offrire un po' come il magico mondo del Wizarding World di Harry Potter perché ragazzi anche Panini Comics ha dedicato un libro all'uscita imminente del film che va a proseguire le vicissitudini della famiglia Grantham da dove le avevamo lasciate alla fine della stagione ho sentito di recensioni pazzesche dicono che questo film rasenti la perfezione perché è uscito già un mese fa nei territori di lingua anglofona quindi ragazzi adesso tocca a noi italiani e sono super curioso andrò naturalmente a vederlo il primo giorno d'uscita e cosa ha fatto Panini Comics per celebrare questa bellissima serie? ha fatto un libro che mi hanno gentilmente inviato che si intitola Downton Abbey il ricettario ufficiale il cibo è molto molto importante all'interno della serie TV perché come vi dicevo parte della serie si svolge ai piani bassi quindi all'interno delle cucine di Downton dove stanno i camerieri le cameriere le cuoche le sguattere e quindi vediamo continuamente preparare del cibo e ai piani alti la maggior parte delle scene si svolgono in sala da pranzo quindi lì anche i nobili pranzano cenano e vediamo queste portate bellissime arrivare nei vassoi d'argento bene ecco che Panini Comics ha raccolto questo ricettario con tutte le ricette tratte dalla serie TV e naturalmente sono accompagnate anche da immagini tratte dalla serie ecco qui alcune immagini per farvi vedere un po' anche i toni della serie che è davvero molto 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 bella qui abbiamo tutta la servitù schierata è bellissima il volume ragazzi è di alto altissimo livello è stampato su carta molto spessa naturalmente è un cartonato abbiamo anche il laccetto il nastrino segnalibro è naturalmente ragazzi super super curato così come Panini Comics ci ha sempre abituati io ragazzi naturalmente vi lascerò tutti i link sotto in info box per scoprire prezzi edizioni e quant'altro su Amazon e poi naturalmente ragazzi qualsiasi domanda contattatemi sia qui nei commenti che su Instagram mi trovate come Antonio.seria naturalmente vi parlerò anche del film non so se lo farò qui o se lo farò su Instagram quindi ragazzi mi raccomando seguitemi cercatemi anche lì a questo punto non mi resta che ringraziare tantissimo sia Panini Comics che l'Universal Picture Home Entertainment per avermi inviato questi bellissimi omaggi che mi hanno reso felicissimo perché appartengono alla serie tv che più ho amato negli ultimi tempi quindi ragazzi coloro non aveste ancora visto Downton Abbey vi consiglio ancora una volta di recuperarlo fatemi sapere se avrete già visto il film una volta finito questo video e fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti naturalmente senza fare spoiler detto questo io la smetto di platerare e vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao